Se ho dato Gesù Cristo, un saluto carissimo a voi che ascoltate. Gesù parla ai discepoli e qui bisogna un po' capire chi sono i discepoli o se sia la folla. Allora, parla ai discepoli, coloro che lo seguono qui da vicino, coloro che condividono la sua predicazione, coloro che sono anche inviati, coloro che vogliono stare vicino a Lui o vorrebbero stare vicino a Lui e essere incaricati, essere in qualche modo partecipi della sua stessa missione, essere al fianco di colui che essi credono il Messia, il Figlio di Dio. Ebbene, a costuro Gesù dice, chi ama i propri cari, la famiglia, il padre, la madre, i fratelli, le sorelle, più di me, non può seguirmi. Chi non è in grado, non ha voglia, coraggio di prendere la propria croce e seguirmi, non è degno di me. La croce non è il senso così metaforico che diamo noi oggi come difficoltà o pena o quello che può essere duro nella vita, quanto quello strumento di condanna a morte infamante, cioè perché ritenuti colpevoli di un crimine. Gesù dunque chiede ai Suoi discepoli di condividere la sua stessa vita. Egli ha lasciato la madre, la vita tranquilla, la famiglia, il buon nome, per esporsi a quello che è l'invidia, la gelosia, l'ostilità, le forze oscure, tutti quegli uomini che lo risettano. È un'impresa, è un'impresa andare contro il proprio interesse, l'amor proprio, è un'impresa andare sempre controcorrente, seguire la volontà del padre che è nei cieli, piuttosto che la propria, piuttosto che una vita tranquilla fatta di tante cose piccole, buone, ma private. Che bello sarebbe poter essere a volte discepoli del Cristo, inascosti, indisturbati nel proprio intimo, senza dover sempre, per forza, confrontarsi con le ostilità, le calunnie, la cattiveria, la malizia, l'odio, l'odio per il bene, l'odio per la giustizia, l'odio per Gesù, l'odio per la fede, l'odio per la tua fede. Che fatica! E Gesù a tutti i costoro, quindi chiamati a una vocazione più vicina, di sequela nei suoi confronti, da questo consiglio. Guardate bene le vostre forze, che le vostre ambizioni non siano superiori a quelle che sono le vostre capacità. considerate bene quello che avete davanti, sempre forze superiori alle vostre, nemici molto più numerosi e potenti di voi, imprese molto più grandi di quelle che sono le vostre capacità, di quello che voi pensate di avere. E' saggezza anche sapersi ritirare prima. Quando si segue una vocazione, io penso che ci siano tante motivazioni dentro, che poi devono essere provate, che si devono aggiustare su quello che è la vita reale della vocazione messa in atto. e così ci sono certamente tante disillusioni e deve rimanere alla fine il fondo, e il fondo è la sostanza dell'amore per Cristo. Quindi quello che diceva Gesù all'inizio di questo Vangelo, chi non mi ama più della propria vita, delle proprie soddisfazioni, dei propri diritti, dei propri affetti, di più, di più, solamente me, da lì la fonte del tutto, non può compiere un'impresa che è umanamente più grande di lui. L'unione con Gesù, che è data dall'amore che noi abbiamo per lui, ci può ottenere quella forza, quel coraggio, quella potenza che noi non abbiamo. Ma che Dio scatena al momento giusto in varie forme, a seconda della necessità, con i doni del suo Spirito. Senz'altro quella della perseveranza è uno dei doni più grandi perché i colpi si abbattono sopra i discipoli del Cristo e umanamente possono sfinire, stancare a morte. Ma la perseveranza è quello che fa dire Signore, ma io ti amo sopra ogni cosa, più di tutto, più di tutti. Mi sento solitario in questo amore perché ho solamente te davanti agli occhi e niente e nessuno riesce più a sostituirti né essere capace di volgermi indietro. Sì, forse stanco, ma che cosa mi rimarrebbe, Signore? in un momento in cui una buona parte lascia perché non capiscono, non comprendono, non accettano forse quella stessa cosa che Gesù chiede chi non mangia la mia carne non beve il mio sangue non avrà parte con me, non avrà la vita eterna. Tutti lo abbandonano la maggior parte dei discepoli. È una prova. Poi Gesù si rivolge agli Apostoli Volete andarvene anche voi? Tutti tacciano perché tutti sentono la difficoltà della comprensione che manca alle parole di Gesù. E Pietro risponde per tutti Signore da chi andremo? Solo Tu hai parole di vita eterna. Cioè solamente Tu hai parole che sono spirituali, vengono da Dio. E proprio per questo sono vitalizzanti. Signore Pietro parla al plurale. Parla per tutti. Da chi andremo? Tu sono cinuti di questa forza, di questa vita. E se anche adesso non capiamo cosa ci sta succedendo, cosa sta per succedere a te, se non comprendiamo questo mistero che noi adesso chiamiamo dell'Eucharistia, tu solo hai parole di vita eterna. Se dovessimo adesso tornare indietro, che cosa troveremmo? Una vita fatta di materialità, frasi senza senso, degli uomini, banalità, slogan, cupidige, realpolitik, mondanità, violenza, sorpruso. Chi ci parla di te e chi ci dà questa vita che ci fa ardere il cuore in petto mentre ti ascoltiamo? non sappiamo dove ci conduci, ma tu hai parlato di croce. Signore, da chi andremo? Solo tu hai parole di vita eterna. Nel mistero di questa vita che non ha senso umanamente, Signore, noi stiamo con te. Noi ti seguiamo ovunque tu vada. Dio vi benedica.